E' morto Ferdinando Imposimato, un uomo che ha fatto della difesa della Costituzione il suo programma politico, umano, di magistrato. Ha servito il popolo, senza tatticismi, senza esitazioni, senza tornaconto personale. Ha combattuto la mafia e la criminalità organizzata. Ha interpretato i sentimenti profondi della parte pulita dell'Italia. Il nostro paese ha bisogno di gente come lui, con la schiena dritta, onesti, competenti, coraggiosi. Mancherà a tutti coloro che vogliono un'Italia neutrale sul piano internazionale, ripulita dalla corruzione sul piano interno, di nuovo capace di camminare a testa alta nel consesso internazionale. Le proteste sono un'opportunità per accorgersi dei problemi e per trovare soluzioni. Lo ha dichiarato ieri, lunedì 1 gennaio, il presidente iraniano Hassan Rouhani, commentando le proteste contro rincari, corruzione e disoccupazione che da giovedì scorso interessano diverse città iraniane. Ma il rischio di strumentalizzazione è alto. La stampa iraniana, che cita fonti vicine ai servizi di sicurezza, afferma che tra gli oltre 500 manifestanti arrestati nel corso dei disordini, almeno l'80% ha ammesso di aver ricevuto denaro dall'estero. Tra gli slogan della protesta, anche quelli contro l'impegno militare iraniano in Siria, in Libano e in Iraq. Il Consiglio di sicurezza iraniano ha fatto sapere che il 27% dei nuovi hashtag diretti contro l'Iran sono stati ideati a Rihad. Teheran è piena di agenti stranieri, spiega il direttore di Pandora TV, Giulietto Chiesa. E come nelle cosiddette rivoluzioni colorate, sono loro che prendono il comando. Hanno i mezzi, l'esperienza, il know-how per farlo. I popoli, le masse, credono spesso di agire per obiettivi propri quando ne hanno, ma spesso agiscono per obiettivi altrui. Le autorità iraniane, intanto, tentano un approccio soft, limitandosi all'arresto dei rivoltosi più attivi e al blocco temporaneo dei social network. I cittadini della Repubblica Islamica sono completamente liberi di protestare, ma il modo in cui lo fanno dovrebbe determinare un miglioramento della vita del paese, ha detto Rouhani, condannando l'occupazione degli edifici pubblici e il furto di armi da parte di alcuni manifestanti. Il bilancio dei disordini finora è di almeno 20 vittime. I dimostranti godono del pieno supporto di Stati Uniti, Canada e Unione Europea, mentre la Russia condanna qualsiasi ingerenza negli affari interni della Repubblica Islamica. Non tutti gli iraniani, però, desiderano il tipo di democratizzazione che ha già colpito Iraq, Siria e Afghanistan. Sabato scorso, quindi, migliaia di cittadini hanno preso parte a centinaia di manifestazioni a supporto del governo di Teheran. Secondo il quotidiano quaitiano Al-Jarida, ripreso anche dall'israeliano Haaretz, gli USA avrebbero dato luce verde ad Israele per assassinare Qassem Soleimani, generale iraniano comandante delle Quds Force, corpo d'elite delle guerre rivoluzionari iraniane, impegnato peraltro anche nella guerra insidia. Secondo Al-Jarida, già tre anni fa Israele fu ad un passo dall'assassinare il generale, ma il piano fu sventato dall'Iran grazie ad una soffiata proveniente addirittura dall'amministrazione Obama, interessata a normalizzare i rapporti diplomatici con il regime degli Ayatollah. Con l'avvento dell'amministrazione Trump, però, sembra essersi rinsaldato il fronte anti-iraniano, che comprende oltre agli USA anche Israele e Arabia Saudita. L'eventuale assassino del generale comporterebbe una crisi enorme in tutto il Medio Oriente e potrebbe essere foriero di conseguenze drammatiche. Anno nuovo, vecchi propositi. Il partito Likud del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato lunedì 1 gennaio la costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania, che passeranno sotto la giurisdizione dello Stato ebraico. Una scelta razzista, ha affermato il presidente palestinese Mahmoud Abbas, aggiungendo che Israele non avrebbe preso una decisione simile senza il pieno supporto dell'amministrazione statunitense. Tel Aviv, quindi, continua per la sua strada, già dimentica dell'accordo di cooperazione con l'Unione Europea, ratificato il 31 dicembre scorso dal governo, contenente una clausola che esclude dal progetto tutti i territori occupati da Israele dopo il 1967, tra cui le alture del Golan, la Cisgiordania e Gerusalemme Est. Intanto sono altre 300 i palestinesi rimasti feriti negli scontri di venerdì scorso contro l'esercito israeliano a Gerusalemme e nella striscia di Gaza. Il 30 dicembre e il 2 gennaio quest'ultima è stata teatro di un doppio bombardamento israeliano contro le posizioni di Hamas, in risposta agli attacchi missilistici perpetrati dal movimento palestinese. La difesa israeliana ha quindi accusato l'Iran di finanziare Hamas, con l'obiettivo di destabilizzare la regione. Facebook elimina degli accounts dietro il comando di Israele e Stati Uniti. A rivelarlo la testata The Intercept, il ministro della giustizia israeliano Ayelet Shaked ha chiesto la chiusura di profili palestinesi incitanti all'odio, minacciando la compagnia con pesanti sanzioni. Il ministro ha poi annunciato con soddisfazione la cancellazione di 95 profili su 158 segnalati. Segnalazioni sono state rilevate anche da New York Times e dal britannico The Independent. Sorte analoga per profili sotto attacco USA, come quello del leader ceceno Ramzan Kadirov. Facebook ha cancellato il suo profilo perché il nome compariva nella lista nera statunitense delle sanzioni. La Corea del Nord ha ultimato con successo la creazione di uno scudo nucleare. Nel messaggio di inizio anno trasmesso dalla TV di Stato, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha annunciato la comparsa del pulsante nucleare sulla sua scrivania. L'intero territorio degli Stati Uniti si trova nel raggio d'azione dei nostri missili, ha detto Kim, spiegando che le forze nucleari proteggeranno il paese dall'aggressione di Washington, che non sembra intenzionata a interrompere le manovre in Corea del Sud, nemmeno in occasione dei giochi olimpici. Seoul, da parte sua, sembra invece tentare un riavvicinamento. Ha infatti proposto a Pyongyang di condurre colloqui ad alto livello nella zona demilitarizzata fra i due Stati il prossimo 9 gennaio, sui rapporti bilaterali e sulla partecipazione ai giochi olimpici degli atleti nordcoreani. La Russia, intanto accusata senza prove dalla Reuters di fornire legalmente petrolio a Pyongyang, ha respinto ogni accusa, dichiarando di rispettare pienamente il regime di sanzioni nei confronti della Corea del Nord. Come scrive quotidiano di Seoul, Yonhap News, finora la marina sudcoreana ha bloccato due navi sospettate di trasferire petrolio alle imbarcazioni nordcoreane. Sulla prima sventolava la bandiera di Hong Kong, sulla seconda quella di Panama. Aumentano le preoccupazioni sull'incolumità fisica di Julian Assange. Criptico, l'ultimo Twitter del fondatore di Wikileaks, postato il 31 dicembre, un codice di 60 caratteri ed un video YouTube. Una canzone rap contenente diversi messaggi, fra cui riferimenti a pirati e rumori di pallottole. L'episodio segue la strana sparizione per alcune ore dell'account Twitter di Assange il giorno di Natale, ma anche l'incursione nell'ufficio dell'avvocato di Wikileaks, Baltasar Garzon, del 18 dicembre a Madrid. Almeno tre presunti ladri incappucciati oscurarono le telecamere. Operazione definita dalla polizia madrilegna altamente professionale. Nel suo primo tweet del 2018, il presidente americano Donald Trump se la prende con il Pakistan, che da paese non nato gode di uno status speciale. Gli USA hanno stanziato più di 33 miliardi di dollari in aiuti per il Pakistan negli ultimi 15 anni, per avere indietro nient'altro che bugie ed inganni. Inoltre danno rifugio ai terroristi afghani. Basta! Immediata, la risposta del Ministero della Difesa pakistano. Come alleati abbiamo dato gratuitamente agli USA territorio e comunicazione aerea, basi militari e cooperazione. Loro ci hanno dato indietro in invettiva e sfiducia, ed hanno ignorato i rifugi dei terroristi sul confine che hanno ucciso pakistani. La tensione risale lo scorso agosto, quando l'amministrazione Trump decise di congelare 255 milioni di dollari perché Islamabad non faceva abbastanza contro il terrorismo. L'ultimo episodio di attrito, secondo New York Times, sarebbe nell'avere ostacolato l'accesso a funzionari americani ad un membro del network talebano Haqqani, al fine di un interrogatorio. L'ex presidente afghano Karzai ha espresso soddisfazione per le parole di Trump, condannando la duplicità del Pakistan.